Da Bologna Unico Gelato si espande a Londra, aprendo una nuova gelateria a Holland Park con il supporto di un team di grandi campioni. Ci abbiamo messo tanto impegno e tanta attenzione per dare un prodotto di qualità. In primis abbiamo voluto fare un gelato che piacesse a noi e quindi no, è chiaro che se la gente apprezza tutto l'impegno e la qualità che cerchiamo di darle, per noi sarebbe un grande riconoscimento. Eravamo già presenti a Londra con le gelaterie, questo è il nostro terzo slash quarto negozio e siamo molto felici perché siamo in una zona residenziale qui a Holland Park perché il Made in Italy piace molto all'estero, soprattutto in Inghilterra, a Londra, qui dove viviamo noi. Unico nasce a Londra nel 2015-2016, abbiamo aperto il primo negozio a Bromley, sud-est di Londra. Siamo diventati forse la gelateria numero uno nel sud-est di Londra, oserei dire. L'azienda che abbiamo rilevato aveva già un locale che abbiamo deciso di non tenere. Per motivi di mercato, sbagliando probabilmente, perché a distanza appunto di qualche anno abbiamo deciso di riaprire una location in questa zona che è una zona molto, molto in realtà molto forte per il nostro mercato e probabilmente più forte di Notting Hill a posteriori. Ragazzi, il gelato sicuramente è il più buono che c'è in circolazione e vi aspettiamo, i numerosi, siamo qua, siamo pronti a servire. Andiamo.